ben ritrovati a questo nuovo video nel quale vi voglio presentare come si installa android in una macchina virtuale ecco diciamo che ci stiamo prendendo una breve pausa da ubuntu per questo nostro canale che come sapete se lo seguite è dedicato ad ubuntu ed intorni ci prendiamo una pausa quasi una ricreazione diciamo ecco con con questa installazione particolare un po curiosa di android che è il sistema dominante sugli smartphone come immagino saprete e che però attraverso questo interessante progetto che vedremo fra un attimo e è disponibile anche per l'installazione sui normali desktop ecco ho detto che ci prendiamo come una specie di ricreazione perché in sé faccio questo video più per curiosità più per segnalare anche a voi che esiste questo progetto che se vi incuriosisce potrete poi anche continuare a seguirlo ma non è che il mio obiettivo è quello di sostituire ubuntu sul desktop o non penso sia neanche l'obiettivo di questo progetto insomma android è fatto per certi formati per per i video con sensibili al tocco i touchscreen eccetera insomma è un'interfaccia un po particolare da vedere sul proprio destro proprio per questo anche tra virgolette un po divertente vedere riconoscere un po le interfacce che usiamo tutti i giorni sul nostro smartphone anche sul vi temporaneamente sul video del nostro pc ecco quindi un po così per divertimento che vi mostro un installazione in macchina virtuale ecco il progetto in questione si si trova questo link che come sempre vi lascerò in descrizione del video quindi android guarda caso si chiama proprio android x86 quindi android per pc praticamente che crea appunto questo progetto cioè i risultati del lavoro di questo di questo gruppo di persone che lavora questo progetto è o sono delle immagini iso quindi adatta all'installazione come qualsiasi altro sistema operativo come scarichiamo una iso di ubuntu possiamo scaricare la iso di android x86 ecco tra l'altro se non già non lo avete letto mentre io stavo parlando avete capito che non è una scelta casuale android per questo video perché pur sempre un sistema operativo basato su linux e immagino che avete già anche pure capito che io usando ubuntu sul pc naturalmente uso android sul mio smartphone un po l'accoppiata perfetta in questo in questo momento storico diciamo così attuale l'accoppiata perfetta meno dal mio punto di vista è ubuntu sul pc e android sullo smartphone quindi andiamo avanti ecco quindi il progetto è questo l'ho già aperto qui ho già fatto clic sulla pagina download perché da qui la pagina download del progetto si possono scaricare le immagini iso appunto da da poi usare per l'installazione ecco fra tutte le immagini che dunque mi posiziono prima di tutto sull'ultima versione quindi la 4 corrisponde ad android 4 è che mi sembra ice cream sand in giusto se non sbaglio di nome potrei anche sbagliarmi con tutti questi nomi che girano comunque non è ancora definitiva è una versione rc2 quindi release candidate candidata rilascio ma non è ancora definitiva effetti fatti vedremo che non è proprio completa però vedete che c'è un pacchetto di un paragrafo pieno di iso diverse ognuna dedicata idealmente ad un tipo di netbook tablet tablet con lo schermo sensibile al tocco quindi touchscreen naturalmente di varie marche ecco detto un ibm team pad una capì un bo cos'è atom questo qui non so cos'è lenovo asus bra m di brezzo quello che è comunque vedete che sono 56 367 immagini diverse ecco la macchina virtuale sempre un ambiente virtuale particolare quindi non tutte queste immagini funzionano correttamente alcune funzionano meglio di altre ecco da quello che ho potuto provare io e anche da quello che ho letto in rete ce ne sono tre di queste sette immagini che in realtà funzionano effettivamente che partono nella macchina virtuale vanno fino in fondo sono quelle per asus quindi queste per asus quella per il team pad quindi questa e le e e e e pc quindi l'asus particolarmente asus e e pc quindi l'asus questo funziona ma e le pc anche fra tutte queste tre che funzionano diciamo che quella che funziona meglio apparentemente almeno a occhio così come funzionamento e comunque quella e e pc quindi noi per fare l'installazione useremo scaricheremo questa iso e e e pc ecco scaricata da qui quindi si clicca si scarica normalmente e abbiamo a disposizione appunto l'immagine iso che posso anche vediamo un po mostrarvela eccola qua eccola qua vedete e pc 187 188 mega cifra tonda poca roba e quindi android naturalmente è piuttosto ridotto in quanto risorse in megabyte perché pur sempre un sistema per apparecchi portatili anche se in memoria non scherzano ma insomma ecco quindi è questa useremo questa è allora una nota durante l'installazione intanto io mi posiziono sulla macchina su virtual box dove ho già preparato una macchina non ancora installata di android c'è uno l'avevo provata che questa che già installata questa qui non è ancora installata e vedete che ho impostato nei dischi l'immagine iso già pronta quindi partirà col cd dvd con dentro questa immagine iso già pronta e ecco una nota durante l'installazione prestare attenzione al fatto che attiva tastiera americana e quindi fare attenzione a non scambiare per esempio la z al posto della y in certe tastiere come nel mio caso che sono scambiate rispetto a quella americana sono un'avvertenza e sappiatelo poi magari la vostra tastiera non ha questo problema perché la stessa disposizione di quella americana quindi per voi nulla di che per altri è giusto una nota di fare attenzione ecco particolarità e limitazioni che vedremo forse la più grossa limitazione senza forse al momento attuale che nella virtual box quindi tensione non se installate effettivamente veramente fisicamente sul vostro pc questa immagine che potete farlo naturalmente se avete un e pc o uno dei pc che avete visto dei dei tablet che avete visto potete proprio installarlo effettivamente sul tablet dunque se non avete un di quelli ma lo fate nella macchina virtuale allo stato attuale non è possibile collegarsi a internet quindi installeremo un sistema che è escluso dalla rete quindi lo potremo guardare com'è quello che c'è installato preinstallato ma non potremo collegarci al nostro account google per i contatti niente perché non è ancora possibile da macchina virtuale sottolineo da macchina virtuale collegarsi ad internet al momento è uno dei punti sui quali stanno lavorando quelli del progetto ma al momento appunto in macchina virtuale niente da fare poi per spegnere la macchina quindi non abbiamo il tasto fisico dello smartphone da tenere premuto per spegnerlo il nostro pc una macchina virtuale non ha niente non ha niente per difetto in modo che si possa spegnere normalmente android quindi o si installa un applicativo tipo shutdown una volta che ci si potrà collegare internet oppure si spegne la macchina virtuale dal suo menu praticamente quando è acceso una macchina virtuale qui nel menu appare apparirà un'opzione per spegnerla e l'unico modo per spegnere se non chiudere la finestra ecco insomma non c'è non c'è diciamo il pulsante di spegnimento come può essere in ubuntu l'arresta ecco per intenderci non c'è questa non c'è questa opzione nell'android per pc o non c'è ancora insomma non so se hanno intenzione di crearlo no comunque per ora non c'è poi per poter agire con il mouse all'interno della macchina virtuale dobbiamo poi disabilitare integrazione del mouse e vedremo poi come fare adesso vi elenco solo le particolarità poi le ripasseremo disabilitare integrazione del mouse quindi far pc la macchina virtuale in modo che il puntatore chiamiamolo così di android che sarebbe poi ciò che simula il puntatore del mouse che simula poi la punta del nostro dito diciamo così sullo schermo possa agire all'interno della macchina virtuale se no non si vede non lo si vede il puntatore del mouse e poi ultima particolarità se vogliamo diciamo non è non è obbligatorio ma possiamo disabilitare la rotazione automatica sapete che sugli smartphone se attivate la rotazione automatica potete ruotare lo schermo lo smartphone orizzontale o verticale e gli applicativi di solito si adattano cioè si si mettono si inclinano in orizzontale o si inclinano in verticale ecco sul pc siccome non potete insomma come dire star lì a girarvi il pc in piedi e in piano e orizzontale potete andare nelle opzioni di android e disabilitare la rotazione automatica in modo che gli applicativi restino per la maggior parte almeno quelli che ubbidiscono in verticale insomma come siete voi posizionati davanti al pc e restano in verticale non vanno messi in orizzontale che sono scomodi o girate voi la testa o girate il pc insomma ecco avete capito allora si installa lo stesso modo di altri sistemi linux perché ri sottolineo android il sistema operativo per smartphone più diffuso al mondo nettamente ed è basato sul kernel linux anche lui né più né meno di ubuntu e di altre distribuzioni linux quindi come si installa ecco qui l'ho già preparata la macchina quindi basterebbe partire per l'installazione però naturalmente per creare questa macchina bisogna impostare un paio di parametri che vi mostro quindi non impostazioni ecco che ho sbagliato ah no va bene va bene anche così ma no dai partiamo da quella nuova così lo vedete ecco queste due tendine a parte dargli il nome alla nuova macchina queste due tendine voi dovete dire di che tipo di sistema stiamo parlando e quindi linux di sicuro e qui non è ubuntu ma non c'è android come specifica e quindi si dice order linux cioè altro tipo di linux che non sia nessuno degli altri quindi quando vi create la macchina nuova scegliete linux e order linux ecco che poi la stessa cosa che vedete qui in quella che ho già preconfezionato linux o der linux vedete è questo ecco per il resto praticamente una volta creata creato disco virtuale tutto quanto uguale 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 vedete memoria tutto tutto uguale una volta che avete messo nel vostro lettore virtuale di cd l'immagine iso possiamo partire con l'installazione e quindi si installa normalmente partiamo ecco partiamo e voilà ecco vedete che questa immagine così come tutte le distribuzioni linux permette anche di provare android x86 lo vedete qui robottino verde android x86 qui passo a destra permette di provarlo in live quindi senza installazione effettiva però noi non vogliamo questo perché va beh basta premere aspettare che parta come in tutte le distribuzioni linux questo noi lo sappiamo già noi andiamo con le frecce della tastiera su e giù andiamo a sceglierci installazione quindi andiamo dritti a installare questo questa immagine di android 4.0 quindi enter sempre con la tastiera aspettiamo che parta ed ecco che appare la prima schermata quindi dobbiamo creare barra modificare le partizioni del disco sul quale andrà ad installarsi il nostro sistema quindi facciamo enter vedete che qui naturalmente essendo una macchina non ancora installata qui ci dice che lo spazio è tutto libero quindi 8 gigabyte vedete a destra 8 gigabyte liberi quindi noi dobbiamo creare una nuova partizione in questo momento è proprio un disco neanche formattato niente tutto libero quindi sempre con i tasti delle freccette della vostra tastiera del pc andiamo verso destra di 1 dove c'è scritto new e sotto appare il messaggio di aiuto creare una nuova partizione dallo spazio libero che poi tutto quello facciamo enter primaria perché sarà la prima e unica che creiamo va primaria va benissimo quindi entere già selezionato la grandezza va benissimo tutta entera ancora una volta bootable cioè che può far partire il sistema sicuramente quindi si entera ancora una volta vedete che sopra qui nella riga sopra qua appare dunque il nome del disco sd a1 boot if quindi che potrà far partire il sistema partizione primaria tipo linux e la grandezza questo punto abbiamo detto che è bootable e dobbiamo veramente scriverla adesso l'abbiamo solo impostata ma non l'abbiamo ancora confermata allora andiamo con le frecce sempre verso destra ancora ancora il tipo il tipo di file system ecco con cosa scrivere la nostra partizione qui ce ne sono tantissime ma noi lasciamo quella per difetto che dovrebbe essere x3 quindi usciamo non impostiamo niente di particolare tipo di file system linux e quindi alla fine l'ultima ozione l'ultima ozione è scriverlo quindi confermarlo quindi non facciamo nient'altro che confermare ecco qui ci dice sei sicuro di vuole scrivere che sennò magari perdi dati perché ce ne hai già noi siamo sicurissimi e scriviamo sì yes yes or no scriviamo sì siamo sicuri di andare avanti quindi enter lui sta scrivendo vedete qui writing sta scrivendo e voilà l'ha scritto è fatta ecco molto bene è fatta e quindi possiamo uscire uscire da questo menu usciamo da questo menu quindi sempre con le frecce ecco e siamo tornati qui vedete adesso si è creato il disco è fatta e quindi diciamo ok vogliamo usare quel disco lì per installare selezioniamo quello che già selezionato diciamo ok andiamo avanti ecco come formattarlo quindi abbiamo creato la partizione del tipo linux adesso diciamo con quale file system cioè sui pc come ubuntu adesso è in voga e xt4 qui per android diciamo che il più vicino e xt3 quindi scegliamo e xt3 ok qui ci dà ancora una conferma si vogliamo formattarlo così lo fa quasi finito ecco adesso vogliamo installare il gestore della partenza il gruppo per il per il buccio e per la partenza il pc sì naturalmente se no non parte e vogliamo installare sì questo è uguale diciamo sì anche se opzionale diciamo di sì tanto non cambia niente per la nostra macchina virtuale sta scrivendo il sistema vedete che veloce in pochi istanti come scrivo qui dopo pochi istanti sistema installato quindi ci mette a meno sicuramente di ubuntu perché anche più piccolo avete visto 180 mega di immagine di partenza quindi vedete che sta già finendo in tempo reale anche se sto registrando il video e lui è già finito ecco qui dice run o reboot questo punto diciamo che volendo far partire la macchina come si deve possiamo fare un reboot ops scusate scusate eccoci qua ok adesso qui è finito quindi io direi di spegnere la macchina ecco spegnere la macchina togliere il cd quindi rimuovi il disco e vuoto e adesso dovrebbe partire perché praticamente già installato vediamo un po se è vero ok ecco ci dice di partire sì facciamolo partire ecco che sta partendo speriamo che vada tutto bene anche come ho già detto il mio pc non è un super computer quindi oltretutto con la macchina virtuale sarà un po lento magari il vostro pc sicuramente meglio più veloce però vedete che sta partendo il nostro bel android dunque una delle cose che ho detto è di disabilitare l'integrazione del mouse e no vedete io entro con il mouse nell'area di android e non si vede niente quindi devo disabilitare qua l'icona qua vedete disabilitare integrazione del mouse quindi tasto destro disabilita ecco una volta disabilitato vedete entro e adesso si vede il puntatore del mouse vedete ecco quindi adesso qua magari metto icona le mie note che tanto così posso mettermi qui bene al centro il nostro android e che possiamo mettere fare o possiamo fare ecco qua vala si è colorato il mouse conforme alla grafica dell'android siamo dentro ecco naturalmente qui il mouse adesso è confinato nella macchina virtuale quindi contro il destro per uscire vedete si ferma il mouse interno posso uscire se no rientro mi viene fuori cattura mouse e sono di nuovo dentro vabbè questi dettagli di virtual box comunque prima installazione di android naturalmente c'è qualche impostazione da fare diciamo che io sono italiano sera andiamo avanti andiamo un attimo prima o poi arriva spero più prima che poi ecco quindi utilizzare l'ora fornita dalla rete date ore automatiche sì forma fuso orario ecco non è proprio quello centro europa dov'è per esempio bruxelles ma si va bene ecco è un po' come usare lo smartphone il telefono è perché questo usi già gmail ecco qui come ho detto non c'è al momento la connessione internet quindi inutile accedere al proprio account gmail per i contatti le sincronizzazioni perché quindi si preme non adesso localizzazione di google eccetera eccetera anche qui gps eccetera un po' tutto così nome e cognome mettiamolo va perché no ecco avanti questo wizard di partenza qui accetti che il tablet bla 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 il tablet tablet lui parla di tablet naturalmente perché non è che stiamo installando su un pc normale siamo in macchina virtuale ma l'immagine che stiamo usando è di un tablet asus e e pc quindi ed eccoci qua qui fuori qualche istruzione d'uso ecco non so perché c'è questa banda nera quando parte però se io entro nelle impostazioni o nelle impostazioni vediamo un po' cosa volevo fare lo sfondo ecco se cambio lo sfondo poi uguale qual è quello che uso ecco se cambio lo sfondo poi la banda nera come vedete sparisce ecco comunque questo è android versione 4 sul pc qui riconoscete immagino le icone che di solito stanno in fondo allo smartphone quindi la home gli applicativi aperti o già usati tasto di ritorno di uscita da un menu qui c'è già la fotocamera installata però ovviamente non è che funzioni si può anche cliccare sulla fotocamera ecco parte una roba del genere noi usciamo ecco qui in alto a destra c'è il menu delle applicazioni con questo suggerimento vedete che ci sono widget o applicazioni esattamente come esattamente insomma da l'idea di essere proprio come su un telefono ma siamo in una macchina virtuale sulla nostra ubuntu se scorro la rotellina scorrono le pagine delle applicazioni già preinstallate vedete sto scorrendo con la rotella del mouse qui ci sarebbe acquista in alto il play store però appunto non essendoci internet vedete che non c'è segnale la batteria è piena l'orario è questo vedete le impostazioni o questo è quello che abbiamo già usato a ecco la rotazione dello schermo magari ecco quella che dicevo prima possiamo che impostare rotazione automatica dello schermo mettiamo a off così non ruota e voilà ecco la home io ho detto praticamente tutto poi se sapete già usare android sul vostro telefono vi ritroverete con i vari pulsanti e se tenete fate click con il tasto sinistro del mouse e scorrete vedete che scorrono le home page schermate di android vedete qui c'era già un widget ecco la sincronizzazione lo spenta per esempio questo qui il widget che controlla il gps l'intensità della luminosità dello schermo eccetera insomma se usate uno smartphone android è inutile che stia dirvi queste cose wifi bluetooth però tenete giù il tasto sinistro del mouse scorrete e scorrete un po come tenere il dito sullo schermo e farlo scorrere vedete che scorrete le varie home page che ci sono forse qui ho finito di scorrerle andiamo un po penso di sì torniamo indietro vedete scorrono le pagine ecco abbastanza quello dicevo divertente tra virgolette qui c'è un'altra con l'icona delle impostazioni si può premere per accedere alle impostazioni dovevamo già prima torniamo alla home page ecco avete visto che qualcosa si può fare insomma con il puntatore del mouse che simula un po per modo di dire il dito sullo schermo qui apriamo le impostazioni l'orario le impostazioni eccetera qui vedete l'applicazione che abbiamo già usato veramente come un ice cream sandwich sul vostro sul vostro telefono ecco spero l'abbiate trovato interessante come video come ho detto una parentesi dal nostro argomento principale che ubuntu una parentesi anche un po particolare divertente curiosa android in una macchina virtuale sappiate che c'è questo progetto chi interessa lo può senz'altro seguire c'è tutto descritto dalla documentazione a come compilare tutto chi vuole approfondire divertitevi se vi fa piacere un saluto alla prossima ciao ciao